Giorno, Reve, Roma! Mi porta, Giorno, Rui, San Cristo! Giorno, 26, Gianluca, Sassi! Giorno, 24, Giorno, Rui, Roma! Giorno, 3, Roger, Ipanel! Giorno, 59, Nicola, Sassi! Giorno, 52, Edo Peleardo, 9! Giorno, 8, Nemanja, Sassi! Giorno, 92, Stekhoa, Sassi! Giorno, 9, Temi! Giorno, 22, Nicolo, Sassi! Giorno, 7, Lorenzo! A disposizione loro 63 povera, Giorno, Giorno, Cristina, Giorno, 16, Giorno, 17, Ligia, Giorno, 19, Cernic, Giorno, 37, Spina Zola, Giorno, 20, Camara, Giorno, 4, Cristina, Giorno, 68, Taino, Giorno, Giorno, 11, Benotti, Giorno, 14, Siondo, Modone, Giorno, 18, Siondo, Patti, Giorno, 101, Bala, Giorno, 37, Kajajak, numero 62, Giorno, il nostro allenatore, Interfattina, Sjose! Giorno!